Pane e lettere per tutti! Letteratura e poesia, SIA! Benvenuti! Noi siamo alla sedicesima trasmissione inerente alla tematica etica e religione. Ci ha raggiunto oggi Massimiliano Bartolozzi Oliva, nato a Caserta nel 1978. Fin da piccolo il padre Fiorentino lo ha avvicinato al teatro, lavorando egli stesso nel teatro Metastasio e portandolo spesso con lui. Ha cominciato la sua formazione al teatro Elicantropo con il regista e attore Carlo Cercello. Da subito ha orientato tutte le sue energie verso il cinema, cominciando a scrivere corti e spot come incubi notturni. Chiuso per ferie, la bestia dentro, tre minuti per la vita. Si è specializzato come director casting lavorando con rilevanti nomi del cinema italiano ed estero come Fabrizio Bentivoglio, Tony Servillo, Ben Gazzara e altri importanti. Come attore riesce a lavorare in tv in programmi come Fubbie sulla 7, Rai 1, La vita in diretta, al cinema con i film Colori, Donne, L'era legale, Vegetarian Party. Intanto ha continuato l'attenta indagine psicologica dei suoi personaggi, spesso borderline, disadattati, polli, nevrotici, a volte grotteschi, come i personaggi delle sue storie Incubi notturni e La bestia dentro. Fin da piccolo è stato attratto dal mondo dell'horror, di Dario Argento ad esempio, e anche dai film di Hitchcock. In Incubi notturni farà proprio un omaggio al film Psycho con la famosissima scena della doccia. Inoltre ha portato avanti la battaglia nel sociale con progetti volti a sensibilizzare e smuovere le coscienze. Ci piace citare la frase Tutto ciò che si fa spinti da passione sarà chiamata inevitabilmente arte. Arriva terzo al concorso Amici di Ron Hubbard nel 2013 con la poesia Volare. Vince anche quello di poesie online di Diogene Illuminato con la poesia Notte. Possiamo dire che è un autore prolifico e multisfaccettato. Bambino mio, bimbo che sei nato oggi, in questo mondo distrutto dalla guerra, dal razzismo, dove guarderai la sofferenza troverai, in questo mondo dove non c'è più religione sei nato tu. La guerra ti ha portato via i genitori, anzi la violenza, l'orgoglio, la sete di conquista degli uomini. Ma tu non hai colpa dei crimini dell'uomo, tu non conosci il dolore, ma presto imparerai a conoscerlo e a conviverci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo avanti con Francesca Lobue. Francesca Lobue nasce a, mi corregga se sbaglio, Lercara Friddi, in provincia di Palermo. I suoi genitori si trasferiscono in Argentina, dove compie tutti i suoi studi fino alla laurea in lettere e filosofia presso l'Università nazionale di Cuglia di Mendoza. Vince una borsa di studio dal Ministero degli Affari Esteri Italiano con un saggio intitolato Lirismo in Metafisica en Giacomo Leopardi. Sotto la guida del professor Aurelio Loncaglia si specializza in filologia romanza presso l'Università degli Studi della Sapienza di Roma. Ha curato diversi studi letterari sia in italiano che in spagnolo. Ha pubblicato la raccolta di poesie in lingua spagnola Por la Palabra La Emotion, edizione belgese, gruppo editorial Madrid 2009. In Argentina un romanzo di viaggio, Pedro Marciano, e in Italia la raccolta bilingue italiano-spagnolo Non te ne sei mai andato. E poi tanti altri testi come Moiras, Il libro errante, e libro errante in spagnolo, Itinerari, I canti del pilota, ancora albero di alfabeti, e i suoi libri sono stati presentati in Italia, Argentina, Portogallo e Spagna, e sono oggetto di convegni internazionali di letteratura comparata sull'autotraduzione e il bilinguismo. Ha vinto premi nazionali di poesia inedita ed edita, ed edita, e le sue opere appagliono in numerose antologie di poesia contemporanea in Italia, Argentina e Spagna, e oggi ci presenta Il cielo del cuore. Ma qual è l'influenza della cultura argentina nei suoi scritti, che è tanto importante, credo? Penso che è tanta, perché la mia lingua madre è proprio lo spagnolo. Spagnolo o castigliano? È spagnolo, è castigliano. 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 Perché il castigliano, diciamo, è la lingua nazionale. Sì, infatti, sono stata proprio a Mendoza per questo. E lo stesso, insomma, comunque in Sud America è la stessa cosa. E quindi io ho fatto praticamente, sono arrivata in Argentina, quando mi portarono che avevo due anni. Quindi la mia lingua madre è lo spagnolo. In spagnolo così ho fatto la scuola elementare, le medie, il superiore, l'università. E sono venuta in Italia, che poi l'Italia è la mia terra, perché io sono nata qui. Sì. E sono venuta in Italia e sembra che l'attrattiva della terra, sono rimasta qua. Sono venuta per un paio d'anni, cioè a fare questa specializzazione, la specializzazione. Oggi si chiama il dottorato di ricerca. Dottorato di ricerca. E diciamo sono rimasta qui, quasi senza volerlo, quasi così, per caso. Perché io volevo tornare, lì mi aspettavo il lavoro. Che rapporto tra l'etica e la poesia? Se c'è. Etica. Ecco, mi è piaciuto la parola virtuoso, virtus virtutes, la virtù, no? Sì. Io penso che in questi tempi, soprattutto, ma io sempre, i tempi sono stati buoni e cattivi. Noi oggi si presenta molto su tema, su questa parola, perché stiamo vivendo già la guerra, no? Io l'ho vissuta, in un certo senso, una guerra brutta come questa, che chiamavano la guerra sucia, perché io mi sono laureata praticamente nel 90, sì, nel 1700, 1900, quando praticamente nel 76, 1976, quando in quel momento la Junta Militare Argentina prese il potere. E lì ci fu la guerra sucia, cioè una guerra civile, praticamente, la persecuzione, che terminò in questi terribili fatti della desaparizione. Desaparizione. Quindi io ho vissuto da sudetessa, perché anche nella mia, diciamo, tra due o tre compagni, sono state arrestate, torturate, non si è saputo più niente. Quindi il mio primo libro, lei parlava di ricordi prima, e diciamo, ci sono un paio di poesie dove io ricordo e ricordo queste due mie compagne barbaramente. Quindi c'è sta molto nella mia poesia, il tema, diciamo, del dolore, della nostalgia. Infatti un libro si chiama Nada se ha ido, non te ne sei mai andato, perché il passato, insomma, non si è perso, rimane in queste emozioni, in queste, no? Quindi c'è ne molto, e soprattutto perché la lingua in cui noi scriviamo, la nostra lingua è la fraccia. Allora, lo spagnolo, però in un certo senso anche l'italiano, perché le mie radici, il mio sangue... Allora, vediamo quanto c'è di quello e dell'altro nel cielo e del cuore. Quasi, quasi, diciamo, è d'obbligo leggerle in tutte e due le lingue. Assolutamente. Allora. Allora, inizio per quale? Con l'italiano, perché poi gli altri si possano, insomma, tutti ci possiamo... Il cielo del cuore Egli è l'amico, è il confidente Volgerà tutto a profondo desiderio di solitudine Volgerà gli occhi dalla bruma, dalle geografie schiacciate, dalle nemicizie circolari Avrà un mantello rovente perché saete spauriscano nel quieto canto di guerra Ed è notte ed è giorno Ed è granello di sabbia e fiamma Tu rimani come albero fiorito Il vento tuona e appaiono nuove voci Le ombre si alzano e la tenebra raduna i convitati di pietra Il vento antico culla la terza luna rossa Ed è il nome, anima del rito delle lucciole Ed è il cielo seminato di cembali e arpi Il cielo del cuore Ed è il raggio di un ritmo Di un eco che rimora nelle voci Sempre nelle voci rimora Un eco del passato, un altro eco del passato Quindi il poeta l'ultimizzanza è la voce del mondo La voce del tempo e la voce Dato che parlavamo tanto del poeta, della poesia Allora, il cielo del corazon Ed, è il e il amico, il confidente oben he che tutto legge a un mondo deseo di soledà, levantarà gli occhi della bruma, delle le geografie appassate e delle le nostre animali circolari. Tendrà una túnica incandescente per che le saete agudate se deshagano nel quieto canto di guerra. E' di noce, 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 di noce. E' di noce, 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 di di un eco che si demora e le vostre seruleas. Grazie. La ringraziamo tantissimo, soprattutto per quelle di Belulas che ce le lascia qui sul tavolo, queste lucciole, con tutte le sue parole. Grazie. Le lascio qua. Queste ce le puoi lasciare, ma ce ne deve far arrivare tante. Dobbiamo riempirle questa scatola, perché poi la gente andrà a prenderle e deve poter prendere anche le sue poesie. A me posso inviarle, le invio sempre da voi. Intanto le mettiamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 Con Amo la vita abbiamo qui, alla casa dello scrittore, Cinzia Manetti. Ciao, mi chiamo Cinzia, scrivo da tempo per portare un sorriso al senso di impotenza e di tristezza che accompagna i nostri giorni. Quella che segue è la mia odia alla vita, quella che ho sentito sorgere in me via 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 camminando dal buio verso la luce. Io amo la vita. Io amo l'ombra prima che muti in luce, la ferita che si fa feritoia, che alleva scintille nell'oscurità. Io amo l'istante che si apre sull'eterno, ogni preghiera librata al cielo in una notte senza luna, ogni seme che germoglia nel deserto. Io amo la memoria del viaggio sognato, che pulsa dentro ed ogni vuoto sa riempire, la forza solenne, il coraggio del primo passo. Io amo la bellezza che sempre mostra la via, di chi si innamora della realtà eppure sa volare, al di là degli stereotipi e delle macerie. Io amo chi si arrende combattivo la tenerezza, la mano che sostiene si fa carezza ed arcobaleni nei cuori sa plasmare. Io amo tutta la bellezza che sai offrire, tu che ascolti la vita con orecchio incantato e avanzi al buio con occhi terzi e cuore luminoso. Io amo te che sai riunire ogni scheggia esplosa, abbracciando come fa il sole, cielo e terra l'imbrunire e ti commuovi dinanzi al miracolo della vita in divenire. Io amo tutto l'amore svelato, che luce scintillante che illumina il cammino per me, per te, per ogni anima e per l'intera umanità. Io amo la vita di un amore senza fine. Cinzia Manetti è nata a Siena nel 1965, si è laureata alla facoltà di giurisprudenza. Ha lavorato presso l'ex azienda ASD 7 di Siena con gli anziani e con gli psicotici. Si è occupata di gare telematiche nel Dipartimento Appalti, Forniture e Servizi di Estar. Ha svolto per diversi anni attività di volontariato. Ha ricevuto una menzione d'onore al concorso Santoro nel 2019 a Roma in Campidoglio. Il testo Girotondo di Pace ha vinto la sezione inediti della quinta edizione del Premio Letterario Firenze per le Culture di Pace 2010 dedicato a Tiziano Terzani. Lo stesso testo ha vinto un altro premio per la tredicesima edizione sezione speciale del Premio Letterario Internazionale Mondo Libri del 2011. La poesia Pro Voce, Nuova Luce dedicata ai malati di Covid ha vinto il nono concorso artistico-letterario Engel von Bergage 2020. Il testo I sogni colorati di tutti i bimbi che è la testimonianza del servizio di volontariato con i bambini malati oncologici ha vinto il secondo premio per la sezione racconti della quinta edizione del Premio Letterario Federica e ha anche ricevuto una menzione d'onore al Premio Letterario Internazionale Metamorfosi nella prima edizione estate 2020 e ha vinto molti altri premi. Dunque Laura, pane e lettere per tutti! E letteratura e poesia sia!